E scorrendo tra i commenti leggo Ciao, ti seguo da tanto E già che mi segui da tanto ti faccio tutto quello che vuoi Potresti farne uno con il nome e il simbolo del mio segno zodiacale Lucia Ariete Ariete, che poi tra l'altro l'Ariete è il simbolo più fortunato in amore questo mese Quindi stai attenta perché potresti ricevere una proposta E poi dato che mi segui Tieni di pronta perché vi farò il cappuccino più fortunato del mese Del barista di TikTok Ma se anche tu vuoi il tuo cappuccino col tuo segno zodiacale Che ti porterà a fortuna con il tuo nome Scrivilo tra i commenti e segui il barista di TikTok Se no non avrai fortuna dal barista di TikTok